Sono circa 800.000 euro il monte economico del finanziamento regionale, pari al 50% del costo complessivo, per riqualificare l'area adiacente alla stazione FS di Faenza. Prima notizia, 873.000 euro di contributo da parte della regione Emilia Romagna, con fondi europei, per riqualificare il nostro ambito della stazione ferroviaria. Partendo dalla ricollocazione della stazione delle Corriere, che oggi è decentrata in un luogo incongruo rispetto alla stazione dei treni, e quindi creare un polo della mobilità sostenibile concentrato nei pressi della stazione ferroviaria. Migliorare l'accessibilità, la viabilità di tutto il comparto, e quindi un'opera che i faentini attendevano da tempo, anche perché sarà possibile realizzare nuovi parcheggi, perché i pendolari da sempre lamentano la carenza di spazi per la sosta permanente. E quindi, diciamo, una grande opportunità che si apre. Chiaramente anche il Comune dovrà metterci la sua parte, perché il contributo è al 50%, altrettanto dovrà metterci il Comune, ma diciamo che si apre oggi davvero concretamente un capitolo importante di riqualificazione della nostra città. I lavori devono essere affidati entro l'anno prossimo e quindi in tempi brevi. Chiaramente non sarò io a inaugurare i lavori terminati, perché l'amministrazione terminerà in primavera del 2020.